Buongiorno a tutti, benvenuti nell'Università di Catania, come si suol dire, no? Welcome, welcome in our university. La prima cosa che vi volevo dire, parleremo degli schemi mentali oggi. Il primo schema mentale degli studenti è non sedersi mai nei primi banchi, perché si teme poi, non lo so, un'interrogazione probabilmente. Quindi siccome ci sono degli studenti, ecco, ci sono tutti i primi posti liberi, non vi interrogheremo, quindi potete venire. Vedete gli schemi come si vorrebbero cambiare? Non vogliono venire perché probabilmente pensano, appena comincia ce ne andiamo, così siamo più liberi. Però tutti questi posti sono liberi. Vedete come si perpetuano certe situazioni. Comunque, io sono molto onorato e contento di essere qui, un po' preoccupato perché vedo tanti docenti messi nelle prime file, quei loro, perché non temono un'interrogazione, e quindi sono un po' preoccupato perché avevo preparato una cosa per gli studenti, non per i docenti. Quindi non vorrei che poi mi interrogano loro. Bene, detto questo, oggi parleremo della mente e di come si può utilizzare la mente per studiare meglio. La concezione tradizionale della mente è quella di una macchina che riceve degli input da una parte, li trasforma, vedete, entra una palla e esce un'altra figura. E in mezzo a questa operazione c'è il cervello. Cioè la percezione che tutti abbiamo della nostra mente e della mente degli altri è questa. Arrivano degli stimoli, li elaboriamo, il nostro cervello li elabora, li complessifica, e dopodiché li tramuta in una possibile risposta di output. Come se funzionasse un computer. E vi devo dire che anche dal punto di vista della ricerca scientifica, per molto tempo la mente è stata assimilata al funzionamento di un computer. Così, input, la tastiera, il processore che elabora qualche cosa, e poi l'uscita. Ecco, questa concezione della mente come computer, che era molto forte negli anni 80, 90, quando voi eravate alla scuola elementare, probabilmente, è cambiata. Cioè noi oggi partiamo da un altro presupposto. La mente è un organizzatore di vita. Questa ragazza deve scegliere lo studio, in questo caso lo studio superiore, ha tante porte davanti, questo l'ho presa dal sito del COF, quindi diciamo parla di università anche. E quindi ha tante possibilità, deve scegliere. Voi, fino a poco tempo fa, avevate tante possibilità. Dovevate scegliere? Avete scelto, avete fatto la prova di ammissione, vi siete più o meno sistemati, perché quando pare siete qui, quindi l'avete superata. E quindi questo è stato un processo che non è equiparabile a quello del computer. Alcuni input, un'elaborazione e un'uscita, come quelle del cellulare che avete in mano. È diverso. Ecco, in che cosa è diverso? Che cosa fa la mente per consentirci di vivere meglio? Di vivere meglio, di vivere, poi meglio vediamo. Anzitutto rispondere agli stimoli esterni. Cioè voi in questo momento state ascoltando. Quindi c'è qualche cosa che, appunto, è un input che arriva alla vostra mente. Adattarsi a situazioni nuove, ci torneremo poi, perché l'università per voi è una situazione nuova. Risolvere problemi. Problemi non soltanto cognitivi. Si risolvono problemi anche col proprio partner, con la propria famiglia, con gli amici. Sono dei problemi che comportano una grossa quota di emotività. Quindi ecco perché non va il paragone col computer. Il computer, almeno finora, non ha un'emotività. Risponde a quello che gli viene detto. Ecco. Per cui noi non funzioniamo come il computer. Prendere delle decisioni, piccole e grandi. Scelgo il caffè o scelgo un decaffeinato che è piccolo come decisione. Scelgo di andare a scienza della formazione piuttosto che economia, oppure faccio un'altra cosa. Scelta molto più importante, evidentemente. Quindi decisioni piccole e grandi devono essere prese quotidianamente. Cioè ogni momento decidiamo quello che dobbiamo fare, la nostra mente si attiva per fare questa operazione. Diciamo che la conclusione di tutto questo è che la mente fa fronte alla realtà cercando di portare la persona a vivere bene. Quindi la persona vive bene quando la sua mente funziona bene. Lo studente universitario vive bene come studente quando la sua mente funziona per l'università. la mente è anche emotiva e relazionale, lo abbiamo visto, e fra l'altro, parentesi che voglio mettere, anche se poi la chiudiamo subito, include anche il corpo. La mente non è solo la testa e il cervello, come molti pensano, ma è collegata col corpo. Qualcuno dice che non sempre la mente è collegata, il cervello è collegato, però generalmente noi prendiamo input dal corpo, tant'è che guardate questa figura che ho preso nella nostra aula universitaria. Questa è una dimostrazione che abbiamo fatto a nostri studenti della magistrale sul robot. Quello è un piccolo robot che lavora con i bambini, con gli anziani, con gli autistici, e così via. Questo robottino funziona col corpo. Qui sta facendo una dimostrazione di come danza. Ecco, perché? Perché si è capito che quando noi vogliamo simulare la mente, dobbiamo metterci il corpo, altrimenti la simulazione della mente è solo parziale. Chiusa questa parentesi un po' così, andiamo a vedere invece come funziona la mente veramente. Io farò un'introduzione relativamente breve, dopodiché poi voi spero intervenite, fate delle domande e discutiamo assieme dei particolari. La mente usa degli schemi. si parla di schemi mentali che tutti quanti abbiamo. Cioè noi funzioniamo per schemi. Questi schemi si sviluppano con l'apprendimento e dipendono da che cosa? Dai dati esterni, cioè dall'input come abbiamo visto, cioè quello che arriva alla mente attraverso i sensi del corpo e invece che dipendono anche dall'elaborazione attiva dell'organismo. Cioè noi non siamo semplicemente, come dicevo prima, un computer che prende dati e li trasforma, ma li elabora attivamente quindi agisce sulla realtà, la può cambiare anche oltre che recepirla. Schemi che dipendono dai dati esterni. Facciamo un esempio pratico così ce la capiamo meglio. Ascoltare una lezione sulle influenze emotive all'esame. Ho scelto questo argomento perché mi pare quello più appropriato proprio per voi e cominciate a prepararvi agli esami. Quindi l'immagine, forse l'ho sbagliata, è un'immagine di tanto tempo fa, cioè quando c'erano le lezioni, però poi ce l'ho messa una anche di adesso, cioè è cambiato un po' quel contesto, però diciamo c'è uno che parla e gli altri che ascoltano come sta succedendo ora. Quando si ascolta una lezione che parla delle influenze emotive sugli esami, cioè che succede quando uno si presenta davanti al professore e deve fare l'esame? Succedono tante cose, la mente si attiva, ma si attiva anche l'emotività, qualcuno comincia a balbettare, non si ricorda niente e tutto quello che ora vedremo. In questo caso cosa succede? Ecco, facciamo l'esempio proprio dell'esame universitario, scolastico, in ogni caso. C'è una situazione esterna, c'è uno schema mentale, lo schema mentale lo abbiamo già. Ok? Il dato esterno deve essere assimilato a questo schema. Quindi, la situazione di esame col professore nuovo che non ho conosciuto e che mi dicono che è uno che è da preoccuparsi per chi chiede cose particolari e così via, è un dato nuovo che deve andarsi ad assimilare a uno schema che invece era uno schema possibilmente dalla scuola dove io col professore ci stavo sempre vicino, lo conoscevo bene. Ecco, questo che cosa comporta? Che questo dato esterno nuovo deve essere assimilato al mio schema e che il mio schema si deve adattare perché se io continuo con lo schema precedente non mi adatto bene alla situazione nuova. Capite? Cioè, quando cambia il dato esterno deve cambiare anche lo schema e si arriva a quello che si chiama equilibrio. Cioè, a questo punto io ho un equilibrio fra quello nuovo e quello vecchio. quando arriva un altro dato nuovo cioè, cambia il professore ho superato il primo impatto, no? Arriva il secondo esame. Il professore è diverso. È una professoressa giovane, carina, tutta diversa da quell'altro che sembrava invece l'orco delle favole e quindi devo adattarmi a una situazione nuova. Cioè, uno che parla diversamente che fa l'esame in un altro modo che è molto più flessibile e così via. A questo punto subentra una nuova situazione di aggiustamento dello schema. Ci sono anche professori diversi da quello che ho incontrato prima o viceversa. Prima uno incontra quello più flessibile e poi dopo l'altro ancora peggio. Quindi, lo schema che cosa porta? Uno squilibrio, un nuovo squilibrio che deve essere, quindi, questo schema deve essere modificato e deve continuare così. la nostra vita non è altro che la nostra vita mentale, non è altro che un adattamento continuo a quello che viene dal mondo esterno. Quindi, un continuo adattamento dello schema mentale alla realtà. Però, c'è anche il contrario, abbiamo detto. Cioè, non è solo che io recepisco lo schema del professore che cambia che è diverso e quindi io devo adattarmi a lui. È difficile che io cambio la testa del professore mentre faccio esame, giusto? Questo mi pare chiaro. Quindi, mi devo adattare io. Mentre invece c'è una situazione, ci possono essere delle situazioni in cui siamo noi ad adattare la situazione, cioè a, come dire, a modificare la situazione. Nell'esame, visto che l'esempio che vi ho fatto è partito da questo, che cosa possiamo fare noi di attivo? Utilizzare al meglio l'intelligenza e le emozioni per riuscire meglio all'esame. A prescindere che il professore sia l'orco delle favole oppure la donna giovane è flessibile. Perché sennò uno, quando affronta l'esame, inizia così e finisce così poi. All'esame c'è tanta gente che dice è come se non mi ricordassi niente. Che significa non mi ricordassi niente? Ho studiato, però in quel momento ho una, come dire, una pagina bianca. Ecco, perché? Perché c'è un'influenza chiaramente dell'emozione, perché c'è un'influenza dallo schema mentale che non è riuscito ad adattarsi a questa situazione nuova. Quindi io posso, invece, dello scopo di questi incontri, costruire il mio esame in modo intelligente. A questo punto cosa succede? Schema di prima. Il dato esterno viene modificato dallo schema. Il mio schema mentale, cioè la mia azione mentale, modifica il dato esterno che in questo caso è l'esame, cioè la preparazione, non il professore. In questo caso io posso essere attivo e quindi come mi preparo all'esame non è semplicemente rispondere a come è il professore, ma è invece come io gestisco la mia emotività, la mia mente, la mia memoria e tutto quanto. E come capite bene non è solamente che entra una cosa e ne esce un'altra. Quello schema iniziale era entra la mia preparazione, quello che ho studiato, esce la risposta all'esame. Non è così. Ecco, non c'è questa cosa così diretta. Il dato si modifica, lo schema interviene come? Con un feedback. Se l'esame preparato in un certo modo mi va bene, quello è uno schema che funziona. Se l'esame preparato in un certo modo non mi va bene, quindi il feedback non è positivo, io devo cambiarlo. Io devo cambiarlo, è una parola importante, perché noi siamo fatti per cambiare, per restare sempre uguali. E quindi c'è una mediazione fra l'interno e l'esterno, anche qui continua operazione dello schema mentale sulla realtà, la nostra vita e un continuo adattarsi alla realtà in maniera un po' passiva o un po' attiva. A questo punto si passa a una gestione un pochino più, come dire, meno emotiva. C'è l'orale, nessuna paura, il ragazzo va davanti alla commissione, parla bene, o la ragazza, non è una questione di genere, e quindi fa un bel esame. Però questo esame deve essere costruito, non capita per caso o perché io ero bravo a scuola e quindi l'esame universitario mi va bene. Non è così. Perché ci sono dei cambiamenti notevoli. I cambiamenti stanno nel fatto che lo schema mentale può diventare disfunzionale. Disfunzionale significa che non funziona bene, no patologico, significa che non funziona bene. Lo schema che predispone a un percorso cognitivo, emotivo, comportamentale già prefissato può funzionare bene quando la situazione è adatta per questo che devo fare, quindi mi consente attraverso l'automatizzazione mi consente di risparmiare tempo impegno mentale, mentre dall'altra parte quando diventa rigido, cioè non cambia, diventa non adatto alla situazione. E quindi come vi dicevo il nostro schema da un lato ci aiuta quando è adatto a quella situazione, quando invece dovrebbe cambiare e non cambia allora abbiamo problemi perché questo schema diventa disfunzionale. Vi faccio un esempio che viene dalla psicologia, dalla psicologia sperimentale. C'è un bambino piccolo, stiamo parlando del bambino che appena cammina, che ha di fronte, deve andare a trovare un giocattolo, un pupazzetto, in mezzo c'è un tavolo. Il tavolo è appoggiato da una parte alla parete a sinistra e quindi il bambino per arrivarci deve fare questa strada. impara a fare questa strada. Stiamo parlando di un esperimento fatto addirittura negli anni 30 del secolo scorso con i bambini piccoli. Il bambino impara che per andare a prendere il giocattolo o l'oggetto deve girare attorno al tavolo perché dall'altra parte c'è la parete. Quando lo sperimentatore sposta il tavolo il bambino continua a girare di là. Ma no perché è stupido, perché è bambino ancora, è piccolo, ha un anno e mezzo appena cammina. Quindi lui non si rende conto che c'è una strada nuova più breve e più semplice dall'altra parte ma continua sempre a fare quel giro. Che cosa significa questo? Cioè quasi nessun bambino trova una soluzione nuova malgrado sia più facile e più efficace. La mente può essere condizionata a perpetuare un certo tipo di risposta quando uno schema è stabilizzato fino a non vedere che ci sono delle soluzioni nuove. Cioè io continuo a fare sempre la stessa cosa nonostante ci sarebbe una via diversa migliore. Questo in termini psicologici si chiama fissità funzionale. Fissità funzionale non è una patologia ma è semplicemente il fatto che uno non cambia quando dovrebbe cambiare, quando potrebbe cambiare. Qui ho fatto un esempio così ieri sera di una signora che non vuole attraversare il parco scusate ma è fatto proprio in maniera primitiva l'ho preparato ieri sull'aerio quindi non vuole attraversare il parco fa la strada come il bambino per arrivare a casa magari hanno aperto una strada nuova dall'altra parte e lei non se ne accorge e continua a fare sempre quel giro. Quindi questo non è detto che sia solo per i bambini piccoli ma può capitare anche per gli adulti con la macchina lo sappiamo cambiano un senso e uno continua a girare sempre allo stesso modo. quindi questa si chiama fissità funzionale avete capito che questa fissità funzionale per l'esame e per l'università non è buona e quindi va cambiata gli schemi si sviluppano con l'età dalla rigidità alla flessibilità questa parola bellissima che secondo me è la parola migliore che ci può essere per una persona cioè essere flessibili lo schema flessibile è la salvezza nella vita perché uno si adatta meglio cioè trova le soluzioni nuove trova un miglior adattamento può agire meglio sulle situazioni con una piccola avvertenza però che anche quando uno è cresciuto come la signora che deve passare nel parco e nonostante è cresciuta nonostante sia sviluppata la mente in certe situazioni torna alle modalità più primitive e meno mature che vuol dire che la signora probabilmente ha paura di passare nel parco e quindi siccome sa quella strada fa quella non vuole tentare una strada nuova che potrebbe essere potenzialmente pericolosa quindi ci entra molto l'ansia come ben capite ci entra la modifica può avvenire dalla fatica dalle forti emozioni dall'alcol o dalla droga se uno è sotto l'influenza di alcol i suoi schemi diventano molto primitivi tant'è che si consiglia sempre di non andare in macchina quando uno ha bevuto molto è anche proibito che danno anche le multe quindi gli schemi non funzionano quando uno è sotto l'impulso di sostanze patologie psichiche quello che a noi interessa in questo momento è lo stress lo stress dello studente per esempio che fa l'esame torniamo a questo come dire a questo punto che per voi sarà fondamentale dovrete fare tanti esami d'ora in voi universitari ogni esame comporta uno stress lo sapete dal film la notte prima dell'esame ecco c'è uno stress la soluzione vabbè quella è diversa però non sembra applicabile giusto quindi è meglio forse lasciare perdere quel film per l'università quello schema non va bene per l'università ecco però non c'è dubbio che ogni situazione di esame è uno stress che può essere superato può essere invece un ostacolo cosa voglio dirvi che quando c'è una situazione simile cioè uno stress lo stress porta a mantenere schemi vecchi che come vi dicevo per quel professore per quell'esame potrebbero non essere funzionali e quindi portare a sbagliare tutta la preparazione la rigidità si stabilizza nella mente e questa stabilizzazione cosa comporta che uno si fissa su alcune cose quindi attenzione selettiva vuol dire io vedo solo alcune cose non ne vedo altre mi preparo su un argomento non capisco che ci sono altri argomenti in quella materia che invece sono importanti allo stesso modo incapacità a cambiare la prospettiva la rigidità dello schema mi comporta che io faccio sempre allo stesso modo quindi non flessibile l'estensione in debita da un'esperienza all'altra ha funzionato nella scuola questo sistema di fare gli esami però attenzione nella scuola l'esame non è soltanto quello finale ci sono tante interrogazioni per cui uno magari che va male in un'interrogazione può recuperare l'estensione cosa può significare significare che io a un esame sono andato bene non mi accorgo che l'altro esame funziona diverso e quindi continuo a fare come facevo prima il che non va bene poi quindi l'esame scolastico come era prima l'interrogazione dimenticatevela perché non ci sarà l'università per quante prove in itinere si possono fare ecco però sempre l'esame finale poi è quello che influenza non c'è un'interrogazione dove io posso prendere una prima volta quattro e poi recupero subito anche la volta dopo un po' come le partite di calcio uno ne perde una e poi ci può essere un'altra che vince qui l'esame è tutto rinviato quasi tutto alla fine radicalizzazione semplificazione esclusione delle contraddizioni non può essere che il professore chieda certe cose per chi non è non lo posso pensare no e invece lo deve pensare perché può darsi che alcuni professori pretendono cose diverse dagli altri quindi le contraddizioni nella vita ci sono e bisogna affrontarle non fare finta che non ci siano chiusura rifiuto di informazioni contrastanti io so quello che mi dicono i miei amici se magari nel sito c'è scritto qualche altra cosa io manco lo guardo perché quello che vale è quello che i nostri studenti chiamano la voce di corridoio voi avete sentito mai i corridoi che parlano io no però ci sono le voci di corridoio cioè la voce di corridoio mi dice una certa cosa al professore interessa che gli racconti questo che gli fai questo possibilmente non è vero perché un'esperienza di uno che è successa una volta tanto la voce di corridoio contrasta con quello che c'è scritto nel programma anziché guardare quello che c'è scritto nel programma sento la voce di corridoio e l'esame va male non so se questi esempi vi chiariscono la teoria la rigidità mentale ci può rassicurare ma sicuramente non fa bene non fa bene perché le idee diventano nettamente definite si rifiuta il punto di vista degli altri si rifiutano le novità mentre il punto di vista flessibile vede le cose articolate cioè diverse capacità di ascoltare e comprendere gli altri cioè sentire quello che dicono gli altri e valutarlo apertura mentale da una parte la mente diventa rigida dall'altra parte diventa flessibile avviamoci alla conclusione applicazione allo studio universitario voi siete qua per questo giusto per sentire che cosa può essere utile per noi bene allora per applicare allo studio universitario quando abbiamo detto ci vuole uno stile mentale passivo o uno stile mentale attivo mi pare chiaro che cosa ci vuole attivo nel cercare informazioni informatevi sul sito con i professori direttamente se avete dubbi parlate con il professore non con l'amico o l'amica che vi racconta le voci di corridoio nello stile di controllo interno o esterno dipende da me che è uno stile di controllo interno o dipende dalla fortuna dal caso c'è gente che pensa all'esame tanto va come capita a seconda come si sveglia il professore la mattina che è esterno no? come controllo non ci posso fare niente io su come se il professore ha litigato la moglie prima di venire a fare l'esame non ci posso fare niente sarà arrabbiato e quindi non ci posso fare niente ci vuole qualcosa mia però che nonostante il professore è così io devo affrontare l'esame in un certo modo se io penso vabbè ci penserà la fortuna è una questione di fortuna l'esame ecco mi va bene una volta ma non mi va bene tante altre volte nella programmazione delle frequenze degli esami dei tirocini della tesi tutte queste sono cose che fanno parte della vostra vita universitaria che state cominciando adesso frequentare oppure no allora uno dice ci sono dei professori che pretendono la frequenza ci sono dei professori per cui uno si può studiare il libro tranquillamente e non perdere tempo ad andarci come lo so questo da quello che mi dicono i colleghi non sempre una voce diciamo positiva gli esami come li programmo quali metto prima quali metto dopo come mi oriento non è come l'esame vi ripeto nella scuola dove invece è tutto già programmato qui dovete essere voi a decidere che esame fare prima che esame fare dopo allora mi vado a informare nel nostro corso ad esempio parlo per quelle del mio dipartimento ci sono i tirocini e se non si superano alcuni esami non si può cominciare il tirocinio quindi non mi lascio gli esami utili per il tirocinio alla fine perché se no il tirocinio non lo comincio mai o lo comincio prima della tesi dopo di chi mi laureo un anno dopo tutta questa programmazione va fatta prima non c'era c'è lo schema mentale vostro deve cambiare in questo senso affrontare i tirocini dove li faccio i tirocini dove trovo un amico che mi fa firmare senza farmi fare niente e me ne sto a casa e non imparo niente però oppure lo vado a fare in un posto dove pretendono la frequenza pur il sabato però mi insegnano le cose anche questa è una decisione alcuni scelgono la via più semplice poi alla fine però non sapranno niente dell'argomento quindi tutto la tesi dove la faccio in che argomento la faccio la comincio quando ho finito le materie molte fanno così assolutamente fuori luogo no? perché se no ci vuol un altro anno poi di stare fermi con la tesi invece la comincio prima la vado a chiedere al professore con cui magari ho più affinità ecco tutto questo è un processo decisionale uno stile mentale attivo non passivo non dovete aspettarlo da altri da altri punti nella preparazione per gli esami e ve l'ho detto ogni materia ha una sua preparazione diversa non può essere sempre uguale ci sono cose che devono essere studiate più a memoria ci sono cose che invece possono essere più concettuali bisogna capirlo però che non è la stessa cosa e così via quindi abitudine agli schemi o flessibilità lo studio è come nella scuola superiore? no ecco questa è la prima cosa chiara che dovete avere all'università lo studio è diverso dalla scuola superiore quindi abituatevi a questo nuovo schema poi c'è una variabile anche come dire contingente i cambiamenti inaspettati delle regole da un anno all'altro possono anche cambiare alcune regole all'università le scadenze gli orari i programmi le sedi sono tutte cose che possono cambiare quindi io devo stare attento a seguire questi cambiamenti e se non seguo questi cambiamenti l'esame non mi può cioè la mia carriera universitaria non sarà lineare noi abbiamo programmato nel dipartimento nostro penso anche negli altri un dottorato un dottorato fatto da studenti già laureati magari che escono ecco che vi aiutano anche in questa scelta però è sempre un aiuto esterno poi la responsabilità è sempre vostra quindi questi cambiamenti come la riprogrammazione dopo eventi critici quali possono essere gli eventi critici ho perso un mese di lezioni perché ho avuto l'influenza un mese di influenza sai ho avuto non lo so mi sono fratturato qualche cosa e quindi ho perso tantissime lezioni quello è un evento critico che va recuperato come con le slide chiedendo al professore se ha dato degli appunti delle dispense insomma tutto quello che è critico va gestito non va e dice vabbè pazienza ho perso un mese di lezione poi vediamo quindi la flessibilità sta proprio nell'adattarsi a una situazione anche istituzionale mi cambiano le regole del tirocinio io devo cercare di supplire diversamente infine ma non è infine perché è una cosa essenziale l'adattamento alla nuova situazione logistica cioè se uno è fuori sede e decide di viaggiare quindi diventa pendolare deve fare una vita che purtroppo è diversa da quelle che abitano qua vicino a Catania stesso se uno si prende la casa a Catania avrà dei vantaggi e degli svantaggi potrà seguire le lezioni fino alla sera anziché scappare alle sei perché c'è l'autobus che mi deve riportare a casa e magari la lezione delle sei è la più importante quella che mi servirebbe meglio alcune volte a lezione specialmente il venerdì pomeriggio a una certa ora gli studenti metà si alzano abbiamo l'autobus quindi ce ne dobbiamo andare bene la lezione continua però ecco questa programmazione ovviamente non c'era quando eravamo a scuola perché a scuola si cominciava e si finiva tutti uguali tutto questo come si conclude ecco questa parola magica che oggi va di moda mindfulness la parola mindfulness gli psicologi oggi la sbattono da tutte le parti ma non solo gli psicologi che cosa è e con questo concludiamo è la piena consapevolezza delle proprie motivazioni sensazioni emozioni pensieri e azioni tutta la psicologia piena consapevolezza cioè fare le cose non per abitudine non per uno schema mentale prefissato ma per chi ci sto pensando capacità di prestare attenzione alla propria esperienza sia interna che relazionale e sociale l'esempio degli esami che vi facevo prima forse il più chiaro se io sono seduto di fronte al professore alcuni già si siedono sulla punta della sedia no? proprio se voi vedete nella sedia si mettono in punta come se fossero pronti a scattare per andarsene quindi già sono pronti per dire se mi fa la prima domanda che non funziona me ne vado ecco quindi già questo è una premessa dopodiché l'esame per molti consiste nel pensare che succede se sbaglio è normale questo qui va bene quindi va controllato se rispondo male che cosa dicono i miei colleghi che mi ascoltano dietro che cosa dicono che cosa dice mio padre quando torno a casa e gli dico non ho superato l'esame ecco mio padre già mi aveva detto ma che ci vuoi fare all'università perché non ti stai a casa a lavorare subito ecco sto facendo degli esempi banali come vedete però per capire come l'esame può diventare una consapevolezza di altre cose non delle domande che mi fa il professore il professore mi ha chiesto una certa cosa io comincio a pensare e se non la so che succede e come ci torno a casa e come mi valutano i miei amici tutto questo chiaramente non mi fa rispondere e quindi si blocca l'esame la capacità di prestare attenzione a queste sensazioni mi fa sbloccare cioè io devo pensare in quel momento a rispondere non a che cosa succederà se non rispondo è chiaro la mindfulness comprende prestare attenzione all'esperienza nel momento presente ora che sto provando io sto provando caldo per esempio questa è una sensazione che non posso fare niente perché non c'è un'alternativa ma ogni sensazione deve essere valorizzata agire con consapevolezza non con gli schemi mentali evitare il pilota automatico che cos'è il pilota automatico? quello che mi guida senza vedere neanche la strada allora può funzionare sugli aerei quando va bene ma in realtà gli schemi non funzionali sono pericolosi lo abbiamo visto con un atteggiamento di apertura quello che si chiama open mind mente aperta apertura curiosità per tutte le esperienze nuove ho cominciato il mio corso pensando che devo fare un certo mestiere può darsi che mi appassiono ad altro durante l'università può darsi che nei tre anni più due che devo fare cambio pure idea cioè mi interesso di altro sempre all'interno del corso di laurea giusto? quindi questa apertura alle esperienze nuove è una capacità di mindfulness che è fondamentale per voi non è che uno entra e esce come è entrato con un titolo in mano ecco che è una concezione un po' strana accettazione di chi non è come noi quindi accettare la diversità anche nei colleghi disponibilità ad ascoltare gli altri affettività positiva verso sé e verso gli altri verso sé uno si deve volere bene non è una cosa egoistica ma è una cosa normale sensazione di auto efficacia finisco con la parola auto efficacia significa ce la posso fare come disse Obama prima di presentarsi all'elezione poi ce la fece veramente perché? perché se uno pensa che ce la può fare poi ce la fa se uno pensa non è cosa mia non ci riesco è troppo difficile non sono preparato forse era meglio che me ne andavo da un'altra parte forse era meglio che non andavo all'università questo vi blocca quindi partite invece dall'auto efficacia ce la posso fare magari migliorando magari facendo uno sforzo supplementare se non capisco la parte statistica ma la studio anche fuori però questo è fondamentale per poter andare avanti perché se no non si va avanti se uno non ha questa auto efficacia quindi conclusione usare bene la mente per farle apprendere cose nuove in modo da usare la mente sempre meglio diventa un circuito positivo che permette appunto di raggiungere un buon successo accademico non fate come questo che gli dice scrivo il suo nome bene questa la so ecco perché poi magari chiederanno altro dopo quindi non vi preoccupate di dire questa la so sapete come vi chiamate alcuni quando sono all'esame non si ricordano manco come si chiamano e quindi importante un po' Grazie.